Quello che accade ormai già da tempo nelle zone centrali della città e soprattutto nella zona di via Mazzini, insomma è sotto gli occhi di tutti, dei residenti, dei commercianti. Voi ieri in commissione attività produttive avete chiesto l'intervento a questo punto del prefetto. Ma allora, noi innanzitutto, io ieri ho dovuto convocare questa commissione perché me l'hanno chiesto i tantissimi commercianti della zona. Purtroppo effettivamente nel tratto finale o iniziale di via Mazzini, quello per intenderci all'incrocio con Corso Vittorio, e la parte un po' più avanti, in corrispondenza della piazza Martiri Pennese, sta diventando una situazione allarmante da un punto di vista sociale per la presenza comunque di tanti balordi che rendono la situazione e la zona assolutamente invivibile anche da un punto di vista commerciale, tant'è che ieri un rappresentante dei commercianti è venuto a riferirci, soprattutto a renderlo noto, a tutti i commissari presenti, non solo ovviamente di maggioranza, ma di tutte le rappresentanze politiche, che da diverso tempo oramai la situazione si è aggravata. Si è aggravata con la frequenza di episodi brutti, veramente brutti, 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 anche di frequenti risse durante l'arco della giornata, oltre a ciò episodi anche di spaccio e non solo. Ci dobbiamo ricordare che via Mazzini sta nel centro storico, proprio nel centro della nostra città. Tra l'altro molti chiedono il ritorno comunque, se non di una presenza fissa, di una presenza costante delle auto delle forze dell'ordine, così come accadeva fino a qualche mese fa. Giustissimo, il problema credo che sia anche questo, non solamente questo, perché fino a qualche mese fa era presente una pattuglia della Polizia Municipale con all'interno un nostro ex dipendente, Lello, non faccio il cognome, che lì riusciva già solamente la sua presenza a essere da grandissimo deterrente per tutti i balordi che stanno in quella zona.